Salve a tutti, benvenuti. Oggi vedremo come usare il programma a gestionare gli ordini per i gas al lato utente. Allora, qui username e password dobbiamo mettere i dati di accesso che vi sono stati dati dall'amministratore del programma. Entriamo, vi appare subito il nome dell'utente, impostazioni, clicchiamo, qui possiamo vedere i dati dell'account, il nome per login, il tipo di account, l'account utente, il giorno della registrazione e l'attivazione. Se noi clicchiamo su dati personali, possiamo vedere i nostri dati personali, andando modifica profilo, noi lo possiamo modificare. Poi andiamo su salva e abbiamo impostato salvato i nostri dati del profilo. Se noi andiamo invece a via DigiGas, andiamo a creare un ordine. Ora, se qui non vediamo nulla, vuol dire che l'amministratore del programma non ha nessun ordine disponibile al momento. Se invece noi lo visualizziamo, basta andare sopra visualizza e ordina. Qui c'è una descrizione, arancita spremuta in questo caso, chili, prezzo unitario, eccetera. Se noi clicchiamo qui, su colline dell'arancio, possiamo vedere una descrizione del produttore, il sito, la confezione, eccetera. Per ordinare, come abbiamo detto, dobbiamo cliccare su ordina. E qui, in questo caso, vediamo cassette, possiamo scegliere la quantità, possiamo mettere una nota, se vogliamo, facciamo acquista. Il programma ci dice che l'ordine è stato registrato, infatti noi sulla destra possiamo vedere arance da spremuta, colline delle arance. Sotto possiamo andare alla pagina degli ordini o mandami un promemoria. Questo vuol dire che, cliccando su questa voce, in email vi verrà il messaggio dell'ordine che avete effettuato. Ora, a me non mi funziona perché sto registrando in locale. Vedete un errore perché in locale non è connessa a internet. Poi sotto possiamo mettere dei commenti che l'amministratore vedrà e potrà esaudire. Potete mettere delle informazioni sul prodotto oppure delle informazioni particolari, eccetera. E l'amministratore poi vi risponderà. Qui clicchiamo invia e verrà il mandato. Vai al forum, clicchiamo qui. Qui saranno visualizzati tutti i forum in cui l'utente potrà partecipare. Come vedete è molto semplice e molto intuitivo. Con questo è tutto, vi ringrazio, alla prossima.